Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti in questa nuova lezione dell'esercizio numero 18 del metodo per abbenimenti, terzine ed agilità. Bene, questo esercizio serve per rafforzare un po' l'anulare e il mignolo, che spesso è un po' pigro. E questo è l'esercizio. Chiaro? È facilissimo come esercizio a livello, diciamo, da capire, però per suonarlo bene ci vuole. E 4, 5, 4 e poi il terzo dito lungo. Quindi basta immemorizzare questa parte iniziale. Quindi questo vi ho fatto vedere. Qui una terzina, 4, 5, 4 e poi il terzo dito che dura a tre pulsazioni. E questo, eh? Mettiamo un metronomo così, a 100. E questo è uguale. In chiusura la stessa cosa. Fate questo, lo scizzate tantissimo e fate... Ovviamente ora è 200, però voi dovete man mano, gradualmente, velocizzarlo, con o senza metronomo. Però sarà così. Inizialmente vi consiglio di non mettere il metronomo, di sentirvi liberi, di sentire la pulsazione dentro di voi, perché già pensate al discorso delle dita, e poi successivamente mettete il metronomo. Chiaro? Fatelo per una buona mezz'oretta, insomma, per questi esercizi, così... Molto rilassati, va bene? Bene. Per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione.